L'incidente è stato investito da un'auto pirata mentre era per strada ad Eboli e la scorsa notte è deceduto all'ospedale di Battipaglia. L'incidente stradale è avvenuto in Litorranea ieri sera verso le 22.30, a ridosso dello stabilimento balneare Arenella. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, diretti dal capitano Emanuele Tanzilli, che hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro stradale, che non è per nulla chiara. Lo straniero in condizioni di salute molto gravi è stato soccorso e trasportato all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia e poi è deceduto in nottata. Purtroppo non è la prima volta che in Litorania, tra Eboli e Battipaglia e strade limitrofe, si verificano incidenti mortali. I carabinieri hanno avviato le indagini per rintracciare l'automobilista pirata che ha investito ed ucciso lo straniero.